Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Fino a 1 ci sono rallentamenti per un veicolo in avaria tra Barberino del Mugello e Aglio in direzione Bologna. Fino alle 22 dell'8 ottobre, chiuso per lavori, il tratto tra la variante di Valico e Aglio, uscita consigliata provenendo da Firenze, Badia. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata tra Cole Valdelsa Sud e Badesse in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia, scambio di carreggiata per lavori tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Sulla statale 3 Bis, Tiberina, riduzione di carreggiata per lavori tra Madonnuccia Poggiolino e Pieve Santo Stefano Sud in direzione Ravenna, chiusi gli svincoli di Madonnuccia e Pieve Santo Stefano Sud. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!